Lei è meravigliosa, gentile, comprensiva, ma anche forte, dinamica, donna e poliziotta. Ciao, finalmente in vacanza insieme. Certo che andiamo insieme. E tu che ci fai qui? Chi? Io? Se non ti porto, non parto. Se non ti porto, non parto. È la nuova campagna comunicativa della Polizia di Stato per fronteggiare l'odioso fenomeno dell'abbandono degli animali d'affezione nel periodo estivo lungo le strade di tutto il Paese. Un fenomeno che l'EMPA, Ente Nazionale per la Protezione degli Animali, quantifica in 127 abbandoni ogni giorno. Fenomeno pericolosissimo anche per la circolazione stradale. Immaginate che l'intervento più complesso per una pattuglia della Polizia Stradale è proprio quello degli animali vaganti lungo le strade. Ricordiamoci però che non è soltanto un fenomeno odioso, incivile, immorale, ma anche penalmente rilevato. Tanto che il codice penale punisce due condotti. L'abbandono di animali e il maltrattamento degli animali stessi. Ma prima di intraprendere un viaggio con le nostre autovetture per raggiungere le agoniate località di rileggiatura, è importante domandarci come devono essere trasportati i nostri amici animali in tutta sicurezza. Il codice della strada in questo è molto chiaro. Un singolo animale d'affezione può essere trasportato all'interno dell'abitacolo libero, a patto che naturalmente non interferisca con le attività di conduzione da parte del conducente. Più di un animale invece deve essere necessariamente trasportato nel vano posteriore, dotato di apposita griglia o rete divisore, altrimenti i più classici trasportivi. La considerazione nei confronti degli animali in questi ultimi anni è profondamente cambiata. Si è preso atto che gli animali sono esseri senzienti, in grado di provare stress, paura, dolore fisico, tanto che nel caso di incidenti che li coinvolgano è fatto obbligo per i conducenti di fermarsi e prestare il loro soccorso, chiaramente nei limiti delle proprie capacità e eventualmente attivando il numero di soccorso sanitario. Buone vacanze e buon viaggio!